ok ragazzi sono fatta la seconda parte delle tour e si non so perchè ma è interrotta quindi sono diviso in due parti questa parte qua e poi un'altra sperando che non mi mette tutte e due insieme e si non lo so non lo so non lo so non lo so la E la E hai fatto tu qua la E dai si è la E la E la E la E brava 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 uno con duda tia brava 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 ma guarda che c'ho fatto mi è scappata eh ce l'ho fatto di le due ditte che sei tu e questo qua non si deve mettere poco pronto questo forse è una vera non si deve mettere ma non si deve mettere in un pochissimo e poi lo devi scappare non si deve mettere vai di sotto prendi una tovaglia di sotto non si è la bocca non c'è nella non scuro no veramente vai di sotto dove le tovaglie lo metti sul tavolo hai capito? vai a fare il tuo fratello ma quando vanno sul tavolo vanno a fare vanno a fare vanno a fare e io posso andare e poi con la nonna tu devi stare qua stai qua ma intanto non giochi stai qua è in gatta buia stai qua vieni su con voi tu vieni con me amore? si così non mi sento così non mi sento e vai anche tu via e vai anche tu via piccol devo metterti il giubbotto lo metto qua si ma quello non è una tasca non è una tasca e vai via è una tasca del bengalio un putto nell'aria sta bella bebola quindi vediamo un po e abbiamo finito anche il si io lo chiamo un quadrante ma non è un quadrante dobbiamo fare il terzo ah no quindi questo è il il penultimo quadrante dobbiamo fare solo due partizze non possiamo ancora fare ancora noi ok oh mio dio questo tanto guarda come mi guardi io lo sapevo dai però 40 punti che squadra faccia non che non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ma non si può avere una sfida così. Non c'è il micro. No, ma non c'è il micro. Buono. No, vabbè, due parti di fila, no? Perfetto. E comunque, sì. Io non ho conto un huracano. Io non ho conto un huracano. Però... Lo voglio provare, secondo me, se funziona una cosa. E forse lei verrà senza audio, anzi verrà senza audio di sicuro. Quindi non mi sentirete... No, ma... Intanto... Ma come? Non c'è il passaggio... Ecco qua, tornando. Bene, tutto possiamo ripartire. E questo arriva a gol. E questo c'è, 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 e questo c'è... devo andare a fare una cosa e poi ci vediamo subito la serie a mangiare o che mangiare? la nutella cioccolato o quale? e che resta? no, non c'è il ritorno ce ne è di cioccolato lo stesso ci andiamo a fincomprati e allora non c'è niente di cioccolato ci sono le caramelle le caramelle dormose sono le caramelle non c'è niente non c'è niente non c'è niente no no, cos'è? ah ok, 4-0 vabbè 4-0 a caso che vuoi? dunque io non mi posso riferire ancora come youtuber o comunque uno che vedete perché non so è passato a video un video e basta c'è non ho un video c'è più di uno però è per me non so neanche perché bernet sale e in difesa chi ci rimane non so non so non so non so non so non so anticipo anticipo ero uso anticipo ero uso e vabbè questo qua è fallo no e comunque di rifinire questo fare allenamenti e poi nella partita con Lorenzo io non giocherò perché c'è troppo devo fare una cosa attenzione però su kyunjung cade non è fallo comunque sto arrivando tanto perché non mi piaceva il coreano adesso bestia 1.1 possono aprire così quindi poi prendiamo un pinone e visto che l'ho tirato in qualche 3 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 9 9 11 11 Stefano mi puoi mandare le foto di pagina 67 esercizio 1 2 4 5 6 7 e 9 di art medica per favore grazie grazie per questa interruzione non so perché non mi dovrebbe notificazione donut disturb ok non mi piace di questo sito con gli eventi non diventi con l'energia ovvero è orribile l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso c'è sempre il kick ma non c'è bel non 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 la non no questo è storto questo non è la cintro ho bagliato invece con la propria punta e più rischiosi di volta sono questi e invece no, quindi dopo aver guardato questa di mezzo io conto il rosario molto no, è il rosario, no, io penso il rosario, uno di due no, non gli altri è brutto per quando ti fatti, direi che fare un gol grazie 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 palo grazie 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 altro che in base al tempo anche se il prossimo allenamento quindi non c'era partito e non chiudere live connetto il tocco della parata a tall e poi iniziato voglio fare un premio e poi era tutto il fatto stupendo vivendo pogba che lo sculato mhm un po' di più E' molto bella, molto bella. ... ... ... ... ... ... scritto è un premio sì almeno in caldo di me possiamo farli oltre che devo un più inergie oltre che esce il video dove facciamo queste quattro qua e buonanotte lo farò stasera fuori 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 no gol barriera uuu invece gol ultimo perfetto oltre che non ce la farei manco cioè si ce la farei manco è un'altra cosa no non ce la faccio è diverso di non ce la farei manco non ce la farei manco non ce la farei manco attraverso ma non ce la farei manco attraverso ma non è gol questa entra e lui è l'ultimo voglio farlo proprio ma dai a parte che era girato il portiere quindi spero che questa live vi sia piaciuta non ce la farei manco non le faccio più cioè non le faccio più live ma non avete capito quindi ci prendiamo questo premio qua premio giornaliero ci apriamo noi ci prendiamo il giornaliero il 2000 così è un domani più contenimento 17.000 monete che schifo non fanno e poi ovviamente andiamo a aprire il pacchetto che come in ogni video ne apriremo uno se sculo è buono il pacchetto giocatori 52 59 71 oh mio dio dai è un altro ci voglio lepire guardate quindi questo qua sarà uno schifoso 70 è veloce c'è il 2% con ben se ne sbaglio 50 pacchetti ho trovato un 80 più che vale c'è ne più questi comunque spero che questa vi sia piaciuta commentate iscrivetevi grazie a tutti